Uè bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video vuole fare 1v1 vuole fare 1v1 guardi 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 ok dai non l'ammazzi lì dai non faccia il culo bravo xyuderone mi piace come nooo che pezzo di culo attenzione quando non puoi più buildare perchè ogni volta perchè ogni cazzo di volta ok 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 orchia puttana let's go mi sarebbe una mano che le hiti qualcuno tipo scusate, li ho messi entrambi one shot uno di vita uno di vita uno di vita che cazzo di fare a me? che cazzo di solo F? colpi, non posso fare niente ma io non ho sentiamo, dai prego quanto gli hai fatto? almeno 80 colpi, non posso fare niente tu c'è due? uno non l'ho preso, l'altro gli ho fatto 80 lo sai quanto gli ho fatto io? quanto gli ho fatto? almeno, almeno 600 eeeh, 2000 no 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 almeno 50-600 proprio a mani bassi se lo dice lei mi dicono la legenda che lei non ha fatto danni no 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 DIO PA- porto ho finito voglielo no senso, no senso, no no senso serve anche la safe adesso Giochiamo normale Perché tu hai il pump e io no Se non ho il pump Non lo posso inventare Cosa faccio? RATATATATATATA Non ce l'ho il pump No 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 raga No no raga Perché? Non si può ragionare in queste condizioni signori Non è ragionabile Ma va tutto storto Ma va tutto da solo Ma si è mosso da solo Non spari, non spari Non ridere, non ridere, non ridere Ti faccio aprire le vesce così si vuole la scelta Silenziati O speri che qualcuno prenda la ziplane E allora ci provi E se non ce la fai fai Arbax e non ti vedono più E poi fai scotrobel Arbax scotrobel La fortuna è che abbiamo il tetto della casa Che poi cercheremo di sfruttare assolutamente Per non crepare Dai questa ci sta Alzi la mano 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 se le piace la fagiana E anche le banane del sire faccina Con occhiali da sole faccina che si recaeva Questo sa di buco del culo E carota? No amo sa di buco del culo No carota Secondo me tu l'hai aperto e ci hai scorringiato dentro Io questo non lo bevo Non lo bevo Per favore Au vai via per favore Allora Non missare Non ci credo Non ci credo Non ci credo Cazzo Allora ragazzi se state un attimo in silenzio la rifaccio eh Prego prego Wey bella Cazzo Vi invito a partecipare Trovate il link nelle mie storie di Instagram Shudder Cosa? Ma che cazzo dice? Ho sbagliato? Ha detto ho trovato il link nelle storie Ma quella è una storia? Che cazzo dice trovate le mie storie? Ah questa è una storia Esatto Ok la rifaccio La rifaccio Uno Wey bella a tutti ragazzi Voglio ricordarvi Vaffanculo Ma cazzo Schiaffo Fida Trinity Questa domenica Alla Figa puttana Dai raga Non so come cazzo si dice Forza E' Ma se l'ho detto prima Ha detto che non va bene Ma cazzo Ma si segna Mi raccomando Swappate verso l'alto Per seguire Tua sorella sta stronza Per seguire cosa? Ma zio di quel parco Deve dire una cazzo di parola Ci vede che non ha mai fatto proprio un cazzo Allora L'ultima Uno E' finita E' finita Wey bella a tutti ragazzi Mi raccomando Swipe up Per seguire Che cazzo Ma non riesco Cosa cazzo fanno con lo swipe up? Questa è quella buona Tre Due Uno Wey bella a tutti ragazzi Vi invito Questa domenica Alla sfida Forna Cosa cazzo si chiama? Due Uno Wey bella a tutti ragazzi Vi invito Questa domenica Alla fortnite sfida Trinity Powered by Wind3 Mi raccomando Swipe up Su questa storia Per avere tutte le informazioni Partecipate numerosi Da Che cazzo è che ha donato? Ma che cazzo fai? Non c'ho un'idea incredibile Non c'ho un'idea Dai Non c'ho un'idea Se può che lo fare? Hanno donato Mentre stavo registrando bene Questa! Chia No c'ho un'idea Qui c'ho un'idea Gigli Questa la maggiorulosa Grazie a tutti.